Questa è la terza forma di cosa? Dove sta il pezzo che ho lavorato? Il pezzo gira? Che competi a livello mondiale, grazie alla vostra qualità, davvero orgoglioso e onorato, quindi davvero complimenti. Complimenti di cuore. La prossima sfida? Non la pallavolo. Quella è stata bella qui qui, eh? Che non si può dire. Allora, chiediamo. Allora, alla grande. Ma giurato, si è messo davanti e non c'è arrivato dall'altra parte. Avevo scritto che c'è lì. Viva, viva, viva.